La decisione più attesa è arrivata. Nella prossima stagione il Bari partirà con una penalizzazione di meno 5 in classifica, tra le pene accessorie anche un'ammenda di 80.000 euro. La commissione disciplinare della FIGC ha accolto le istanze di patteggiamento presentate dai legali del Bari. Una notizia che potrebbe paradossalmente essere accolta con un sospiro di sollievo, considerata la paventata retrocessione o maggiore penalizzazione di addirittura meno 10 in classifiche di cui si era vociferato negli ultimi tempi. Ci davano già retrocessi o sommersi da una valanga di punti di penalizzazione. È andata bene e questo il commento del direttore generale del Bari Claudio Garzelli subito dopo il pronunciamento della commissione disciplinare. Squalifica di 26 mesi e 30.000 euro di ammenda invece per Andrea Masiello, ritenuto il principale pentito del processo al calcio scommesso e in corso all'ex ostello della gioventù del Foro Italico a Roma. I patteggiamenti riguardano la presunta combine per il derby Bari-Lecce del 15 maggio 2011, finito 2-0 per i Salentini. Intanto a Bari prima giornata di interrogatori nell'ambito della seconda tranche di indagini sul calcio scommesse. Davanti ai PM Ciro Angelillis, Giuseppe Dentamaro e al maggiore Riccardo Barbera del nucleo investigativo dei Carabinieri di Bari, gli ex biancorossi Andrea Ranocchia, ora all'Inter, e Jean-François Gillette, ora al Torino. Ranocchia si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Gillette ha risposto alle domande degli inquirenti per circa un'ora. Prima dei due ex giocatori del Bari è stato interrogato Angelo Iacovelli, all'epoca factotum della squadra, anche lui indagato dalla procura di Bari per le presunte combine. Le presunte partite truccate su cui potrebbe aver fatto domande sono Salernitara Bari del 23 maggio 2009, Piacenza Bari del 9 maggio 2009 e Bari Treviso dell'11 maggio 2008, tirate in ballo nelle ultime rivelazioni fatte alla procura federale dagli ex biancorossi Andrea Masiello e Vittorio Micolucci.